e e a mano di girare? dove ce lo troviamo a ballo? Oh cazzo questo canzascatto, così non mi abbasso è quello che l'ha arrivato quel pezzo il cesellatore, sì orapo però c'è il cesellatore lì e sì quello che col martello e il bulino faceva tutti questi lavori oggi non esistono più queste scuole anche, metà degli mestieri antichi, ma tanti non esistono più non è bello, questa è la cucina di Assisi di cento anni fa con i vari oggetti ah bravo, guarda il portantino, misteci una portantina, doccia, doccia fuori, perché scaldava l'acqua, la bulla lì pensate, macchina per gli spaghetti già all'epoca c'è lo spago eh sì eh tagliatelle sì sì, questi nostri ricordi ci appartengono a tutti questi mestieri perché tutte le famiglie ci faceva il fabbro, il paligname, una cosa di là, questa è una cosa interessante, vedi, cinture di cascità quando i cavalieri templari andavano alle cruciate mettevano questa cosa qui e la chiudevano a chiave a sua moglie gli aveva messo sì, una vera e propria tortura e prima di partire mettevano la moglie che restava nel castello e la chiudevano a chiave buttavano via la chiave, ma i giovanotti del castello tutti a cercare la chiave ma io non ho capito come mai questo l'ho aggiunta io ma spaccato il rocchetto, il fabbro usceva ah sì, certo infatti il fabbro era quello che si divertiva era quello che si divertiva eh 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 quella è la misura media ma con un piacere capito ragazzi ma c'è male eh eh sì a San Francesco mi poi lì è tutto scritto lì è stato finito che aveva visto giocazione lì è stato finito sei fastidioso eh? adesso che stai bene, ieri così bello, ieri così simpatici di sera orada molto facile l'ho scusata grazie 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 ma quello che c'è cosa significa quello lì stava chiedendo hai chiesto hai trovato qualcosa spiegato perché è il cavale 30 prefetto quello che c'è ha chiesto hai trovato qualcosa di spiegato perché è il cavallo 30 E' efficace! Sono tutte decorate con maioliche dipinte, a parte che è quattro volte questa, come grandezza, ma ci sono degli altri. Speriamo che non cade. Ma nelle chiede non ci sono mai bagni? No. Lì c'è un bici. Speriamo. 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 Speriamo.